Lo sappiamo che per molti di voi queste sono feste che si trascorrono a casa, magari al lavoro, però attenzione perché anche se siete rimasti in città ci sono delle cose interessantissime da fare e sono gratuite, proprio oggi infatti sono aperti praticamente tutti i musei statali. Quindi volevo consigliarvi di andare immediatamente sul sito beniculturali.it ma vedo che non ci si può collegare, evidentemente è troppa la gente che sta tentando di farlo, comunque quando poi riuscirete a collegarvi scoprirete che nel sito tutti i posti eventualmente da visitare sono divisi per regione quindi è facile trovarli e ci sono un sacco di eventi che sono legati appunto a questa apertura straordinaria e gratuita. Tipo a Torino all'Armeria Reale saranno letti i brani del carteggio Freud Einstein, alla Pinacoteca di Brera ci sarà un concerto di musica medievale, poi in Sardegna al Museo archeologico nazionale di Cagliari si terranno eventi dedicati anche ai più piccoli con racconti di Charles Dickens. Si potranno vedere i bronzi di Riace a Reggio Calabria, lo sapete che sono tornati da poco, è tutto gratis questo. Abbiate un po' di pazienza, riprovateci tra qualche minuto, il sito è benissimo.